Eeeh, sono tutti i principali anni e bentornati in questo nuovissimo video Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio discord personale Al discord della community e a tante altre cose interessanti Basati sui link e qualsiasi cosa, insomma La descrizione, guardate Niente, detto questo, buona visione Ah c'è un altro Oh c'è ancora uno Io ne ho uccisi due giganti qua al corridoio Madonna che c***o ho guardato Sto finite? No, ho finito le granate Sì sì sì, tutto quello che vuoi lì ora prendi Sinistra, sinistra Fermo, fermo, fermo Siete qualche sparate? Sì, in fondo verso la 2.18 Aspetta Avanzo, avanzo C'è nessuno di là a parte lui? Eh, ho visto solo uno Sinistra verso 2.18 Fatto Andiamo al terzo Aspetta Aspetta Ho giunto una granata Non ne ho fatto un caso Un metro di tacco L'altro L'ho lanciata io Santa libera Aveva i cosi Ma che so che mettono a mortare? Santa libera C'avevo la Zook 6 ma io l'ho distrutta Libero? Livello 10 Prenderla nella Prenderla Prima di morire voglio lanciare tutte le 12.000 granate che ho Noi stai venendo la quest granadiera No Mamma mia quanto si porta Meltate Guarda che sono degli imbecilli Guarda con la paca Ma sembra quello è un Val No una K con un Vabbè tuffati sui cadavere Diversi Tanto posso prendere poco Vabbè Ah Potevi prenderti l'attac che aveva il tizio Vala Non lo vedo, è morto? Eh no, eh sì, ma è tipo sdraiato che stava entrando in un cespuglio, probabilmente perché c'era uno di fronte, sento. O forse si voleva infilare per aspettare la gente. Livello 38, con un TX e col termico. Vai, appioppatelo. Invece no, scegli una fazione e tieni solo qua e leva a fanculo, che fai? Ah, spariamo, avremo direttamente due personaggi. Che è? Uno che è quella con lì, su un tozo lì di ferro, mi ha fatto un braccio. Eh, traccianti rossi. Vedrà che ci sparava, che te gli stai dando la siena. Dai barili di metallo. Oh, là, da lì, ecco. Ti ha shottato? No, no, no. Allora sono due, sono due. Sì, sì, sono due. Mi sto recosando il braccio, notte. Metallo? Guardate voi che sono arrivata. Che cazzo sono? Merda, si sono avvicinati. Aia, flashpoint. Aiutatemi, aiutatemi, si fa il buco. Non vedo io. E manco io. Sei morto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ci sono uno. C'è l'altro dall'altra parte Quello è sulla coninetta Quello è di spazzatura Stà bugiando a sinistra uno Attenti che questi salgono sopra le cose Granata Chi l'ha tirato la granata? Io ho tirato una M67 Oh merda attenti Sono io qua sono io Occhio Occhio ce n'è uno a destra e uno a sinistra Occhio occhio Io sono al cosotto blu eh Uccito? Ah già Merda Sì sono allo stesso momento Cazzo Ne manca uno Manca quello con la M4 Ho ammazzato quello con la K silenziale E qui da me è quello con la M4 Dove? Eh lo sento nelle frasche Ah lo vedo lo vedo Dov'è? L'ha iltato Merda Eh dietro No questo è un altro Sono due Fatto Fatto uno Te sei vivo? Sì 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 Manca quello con la M4 Lo so La X15 era O magari l'ho fatto Non lo so Mi dobbiamo dare un'occhiata Erano No questa è una K Manca ancora la M4 allora Merda Cioè io ti ho visto correre Appena Appena ho ammazzato Si muore Mi ha sparato uno scavassino Non capisco Tu quanti Cioè quanti ne avete ammazzati voi? Io uno Te dove sei? Eh qua nel Nel disc Cioè tra I due muri praticamente Quello là Del garage E quello lì tuo Sei entrato in un casotto? No 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 Ok trovato L'hai ucciso? Mh Ok Perfetto Sono morti tutti Che colpi aveva questo? Eagle Nick Aspetta no Sto un attimo pensando Sennò è un team da 5 Da 4 Allora Ne uccisi due Io non mi ricordo Se ne uccisi due o tre Allora perché Qua ne uccisi due sicuro Io ho ucciso questo qui Aveva una Da rendo Cazzo lo metto Vabbè c'è il trizipo Ok io ho fatto il trizipo No 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 Eh vieni qui Fall Davai massimo Che cazzo è? Morto Morto Allocare è morto Che paura Va va Che ne è ancora Che ne è ancora Che ne è ancora Che ne è ancora Ho partito Ho partito Ho distraiato Toiti Toiti È morto è morto Ah vaffanculo tutti qua Minchia c'eri davanti Zino ti stava sparando Ho notato Ok meno male non avevo Il coso Il cappellino Perché quanta volte ti ho preso in testa È lungo la ferrovia raga Uno dove siamo arrivati noi Oh merda Granata 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 Fatto Ce ne sono due E mi ha ucciso Uno scappare di merda Sto fatto Merda Che sono io fa Secondo me Sono andato a postare dall'altra parte Polar Quindi siamo intrappolati qua dentro Fino Affinché non moriamo Poi finché non li ammazziamo Pensa che sono ancora storto Ah ok Ok Beh Sei al terzo con me Io sono Non l'ho spiato Ok E dove sei messo Io sono in cucina E guardo se esce dall'armadio Eh sentilo lo yogurt tattico di caso Guarda Sti figli puttano hanno pure messo le mete sui caricatori del valle Io che cazzo devo fare porto a dio Che laggiata Io non sento se è vicino Se ti sta luccando Vabbè tanto non è che la mia roba sia Se gli lancio una granata Tanto li hai sulle scale Prova Prova È andata giù Eh il passo l'ha fatto Non vuol dire Sto affrezzando ogni trascettore Mi è rimasta un'ultima granata Non la tirano ancora Ora scale 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 Fatto L'altro non l'ha fatto È salito su per le scale Senti lo sentilo questo yogurt Cazzo di visiera Non vedo l'altro Cazzo di visiera Cazzo I caschi Non servono a un cazzo Solo l'altin Forse adesso ricomincia a servire a qualcosa Tutto il resto È merda L'ho fatto La bomba Solo l'ho buttato di fare Buono Guarda la mia roba Basta che butti via il ballo Poi il resto solo prendono Sti cazzo Poi c'è comunque un svd Nello zaino Anche se non è che Ci guadagni tanto Non ti occupa Un fottio di spazio Per 60.000 E basta Può anche non cagarlo L'ho A presto Il nostro corso gratuito è molto limitato. Il nostro corso gratuito è per il nostro corso gratuito. Non ci sono limitati che non sono più più vicino. Grazie per la visione!